Tributi locali sospesi fino a settembre per tutti, lo ha annunciato stamattina il sindaco Valenti in una conferenza stampa incentrata sulle iniziative per la ripartenza del territorio dopo la fine del lockdown del coronavirus. Già lo scorso gennaio era stato deciso che l'area di piazza Mariano Rossi adibita a parcheggio a pagamento non sarà più rinnovata al privato, a gestirlo sarà il comune. Sul tema era intervenuto nei giorni scorsi l'avvocato Stefano Scaduto. E' ufficiale, torna sabato 6 giugno il mercato di San Michele aperto a tutti i concessionari e non solo a quelli del settore alimentare. L'intesa è stata raggiunta stamattina al termine dell'ennesimo vertice tra amministrazione e ambulanti. Illegittimi ruoli del consorzio di bonifica, la commissione tributaria ha accolto i primi quattro ricorsi di aderenti al comitato spontaneo degli agricoltori. Ad assisterli il tributarista Stefano Fontanetta, soddisfazione da parte di Nino Ciaccio. Rino Marinello rimane nel Movimento 5 Stelle, lui adesso è il parlamentare di riferimento dei pentastellati dopo la decisione di Matteo Mangiacavallo di lasciare Grillini. Per il senatore Marinello le battaglie si conducono dentro. Se volete portare le malattie infettive a Ribera fate pure, ma nessuno pensi di toglierci il reparto di neuro-riabilitazione della fondazione Maugeri. Lo ha detto Carmelo Pace, sindaco di Ribera, in ordine alla discussione tuttora in corso. Ben trovati al nostro telegiornale. Ci occupiamo di tributi locali che saranno sospesi o meglio rinviati a settembre per tutti i contribuenti saccensi. Iniziative per il rilancio dell'economia locale, estate saccense e pulizia della città. Sono solo alcune delle problematiche al centro questa mattina della conferenza stampa del sindaco Francesca Valenti, dopo giorni di sollecitazioni e proposte arrivate dai consiglieri, da associazioni ed ex sindaci. Ringrazio tutti, stiamo lavorando per uscire da questo momento difficile, ha dichiarato il sindaco di Sciacca. C'è il servizio. Rimettere in moto l'economia locale. L'amministrazione sta lavorando per sostenere le categorie maggiormente danneggiate, ma anche i cittadini. Così il sindaco di Sciacca Francesca Valenti, nel corso della conferenza stampa tenuta questa mattina, per fare il punto sulle iniziative che si stanno portando avanti. Intanto sono 985 le istanze pervenute per i nuovi buoni spese a quelli con fondi regionali, che hanno richiesto un'istruttoria piuttosto complessa. Le procedure per l'assegnazione delle somme agli eventi diritto dovrebbero essere ora più veloci ed essere definite in settimana. Sindaco che ha poi annunciato di avere già dato direttiva agli uffici per estendere a tutti i contribuenti saccensi, non solo alle categorie maggiormente danneggiate dal lockdown, la possibilità di rinviare a settembre il pagamento dei tributi locali previsto a giugno, sostanzialmente IMO e TASI. Annunciato anche un approfondimento con ordini professionali e istituti di credito in relazione alle opportunità offerte da Eco Bonus e Sisma Bonus. Per far fronte alla carenza di personale è stato varato il piano delle assunzioni, 30 nuovi dipendenti comunali in tre anni. Tra le novità emerse in conferenza stampa anche la decisione, già comunicata agli interessati nello scorso mese di gennaio, di non rinnovare il contratto alla ditta che gestisce parcheggi di Piazza Mariano Rossi e di altre aree della città. Il comune di Sciacca si prepara insomma alla gestione in aus. Gran parte della conferenza stampa è stata dedicata poi alla questione della ripartenza dell'attività per l'estate saccenza, assieme alla spinosa e sempre attuale problematica della pulizia che lascia desiderare. Non sono più tollerabili i comportamenti incivili che danneggiano l'immagine della città, dichiarato Francesca Valenti. Due cose sono obbligatorie al riguardo e devono essere fatte subito e si sta lavorando per farle subito. Intanto le telecamere, perché a questo punto considerato che il senso civico di pochi, ma il senso civico di questi pochi danneggia gravemente la città perché si ripulisce e dopo un giorno si è nella stessa situazione, ciò considerato non ci può che essere il controllo e quindi la repressione. E da anni che si parla di queste telecamere in realtà? Infatti, oltre a, va bene, c'è tutto l'impianto finanziato con mutuo di videosorveglianza, quello riguarda la sicurezza della città, quindi su quello stanno già lavorando, dovrebbero avere fatto l'affidamento, quindi quello è un discorso. Poi abbiamo le famose telecamere del Piano Aro, ma non sono sufficienti. E allora proprio su questo, io ho parlato anche stamattina col dirigente, noi dobbiamo immediatamente, immediatamente, dobbiamo immediatamente mettere alcune telecamere. A costo che non le facciamo stabili, le possiamo immaginare che si possano spostare e quindi non essere soltanto in alcuni punti, però dobbiamo farlo subito. Altra cosa per cui io sto facendo direttiva è la pulizia. La pulizia dei vicoli, delle scale, delle strade, quelle più interne, quelle dove non passa il mezzo meccanico. Lì c'è, mi rappresenta il dirigente, un problema di carenza di personale. Bene, ho detto, risolviamolo. In settimana si procederà alla definizione delle procedure per il car sharing, bike sharing e in corso la pulizia delle spiagge. Siamo in attesa delle linee guida per capire come gestire la stagione balneare, ha aggiunto Francesca Valenti in quella che è stata una conferenza stampa che ha toccato anche la questione dei rifiuti, la riapertura degli spazi museali e tanto altro ancora. Di tutto di più dopo settimane di sollecitazioni e proposte pervenute da consiglieri, associazioni ed ex sindaci. L'esigenza della conferenza stampa è un po' raccontare cosa stiamo facendo oggi. Sul coinvolgimento, io ribadisco, ringrazio, senza dubbio ringrazio, è stata una mia richiesta, una richiesta che è stata fatta anche in consiglio comunale, ho ringraziato i consiglieri comunali e ho chiesto aiuto ai consiglieri comunali, ribadendo che è un momento storico che esige unità, che non significa unanimità, l'abbiamo detto più volte, ma sicuramente unità. E quindi le sollecitazioni che vengono dai consiglieri comunali, figuriamoci, sono veramente bene accette. Sul coinvolgimento dal punto di vista proprio tecnico, è un problema di tempo. Poter sentire tutti e incontrare tutti, onestamente non è stato possibile. Quindi non è una mancanza di rispetto e di riguardo per quello che arriva, anzi sono delle sollecitazioni molto interessanti, utili. E tra le novità emerse questa mattina, la decisione di estendere a tutti i contribuenti la possibilità di rinviare a settembre il pagamento dei tributi locali, ma anche la decisione di non rinnovare il contratto con la ditta che gestisce il parcheggio di Piazza Rossi e di altre aree della città. Ne abbiamo parlato con l'assessore Michele Bacchi. Assessore Bacchi, tra le iniziative annunciate oggi in tema di quello che si può fare per rilanciare l'economia, c'è anche questa ipotesi di rinviare il pagamento delle tasse locali a settembre, ma non solo per categorie maggiormente danneggiate. Sì, allora la previsione è appunto questa, quella di rinviare al 16 settembre quindi il pagamento dell'Imu Unica, perché adesso quindi chiaramente scompare la tasi e sarà accorpata quindi all'Imu. Quindi abbiamo fatto questa previsione, anche se pur non tutti hanno subito quindi è un danno dell'emergenza coronavirus, però abbiamo ritenuto opportuno fare questa estensione quindi complessiva di tutti per due ordini di ragione. Quindi il primo è che chiaramente qualora si doveva applicare un'agevolazione per determinate categorie bisognava fare richieste, domande, istruire e chiaramente quindi avrebbe comportato anche il collasso degli uffici perché giustamente poi quindi le pratiche dovevano essere istruite, posto che poi magari diventava anche difficile andare ad analizzare ogni singolo caso perché io penso magari alla famiglia Monoreddito che vive di lavoro autonomo e quindi ha avuto un danno, ma ci sono anche quelle miste dove c'è magari uno dei due che effettivamente vive di lavoro autonomo ma magari l'altro ha lo stipendio quindi che è servito appunto per colmare. Quindi ci sono delle situazioni, allora per evitare questo, ma anche sostanzialmente quindi per dare un segnale dell'amministrazione a tutti, anche perché dico se c'è qualcuno seppur a reddito fisso che magari ha la possibilità di traslare la scadenza eccetera quindi questo libera risorse e quindi eventualmente se vuole e ha voglia di spendere chiaramente mette anche del denaro in circolazione per aiutare quindi le attività. Senta, tra le novità annunciate nel corso della conferenza stampa il fatto che già a gennaio l'amministrazione comunale ha comunicato alla ditta che gestisce il parcheggio di Piazza Mariano Rossi ma anche alle altre aree di parcheggio della città l'intenzione di non rinnovare il contratto sostanzialmente il Comune gestirà in proprio queste aree? Sì, allora chiaramente il Comune rientrerà in possesso delle aree quindi di parcheggio attualmente gestite dalla società esterna presumibilmente quindi la scadenza effettiva quindi sia in luglio ma poi ci saranno dei giorni eventualmente quindi da recuperare però dico sicuramente per settembre quindi saremmo in possesso del parcheggio e chiaramente quindi la gestione che il Comune quindi penserà di fare è una gestione in house si sta lavorando e ragionando sulle modalità appunto di attuazione anticipo che il piano parcheggi prevederà diciamo diversi step un primo step è quello, quello di una gestione diretta di queste aree che poi magari saranno destinate ad implementarsi dal punto di vista proprio di stalli però l'esperienza del primo step serve esclusivamente e necessariamente per aggiustare quello che poi si andrà a fare quindi nello step successivo L'amministrazione comunale di Sciacca ha varato il piano delle assunzioni per il triennio 2020-2022 tramite concorso si effettueranno 30 nuove assunzioni per coprire settori che maggiormente soffrono la carenza di personale dalla Polizia Municipale all'Ufficio Tecnico ce ne parla in questa intervista l'assessore Fabio Leonte Assessore Leonte, un piano di nuove assunzioni da spalmare nel triennio ma qualcosa comincerà a muoversi già dai prossimi mesi? Sì, già noi abbiamo in itinere le mobilità che erano state approvate con il piano triennale delle assunzioni 2019-2021 le commissioni sono state nominate, gli uffici hanno lavorato e entro giorno 30 di giugno noi pensiamo di poter concludere sia le mobilità sia la ricerca del dirigente con l'articolo 110 quindi un dirigente a tempo determinato nel mese di marzo, se non erro, abbiamo approvato il piano triennale 2020-2022 un piano triennale che ci consentirà di assumere mediante concorso pubblico quindi non più mediante mobilità 30 persone, 30 nuovi dipendenti e speriamo 30 giovani che possano dare nuova linfa a questo comune nel quale non si assume dal 1984 Quali sono le figure professionali che saranno richieste che poi si rendono necessarie, più urgenti rispetto ad altre? Abbiamo cercato di dare risposte a tutti i settori che sono carenti di personale pertanto abbiamo pensato alla Polizia Municipale abbiamo pensato anche agli istruttori amministrativi contabili che nel corso degli anni sono andati in pensione quindi sono in numero ridotto chiaramente all'ufficio tecnico che necessita di nuovi ingressi a seguito degli ultimi pensionamenti due figure voglio segnalare nuove ed importanti assumeremo un geologo che è una figura che all'interno dell'ufficio tecnico è di fondamentale importanza e assumeremo anche un esperto informatico perché diventa necessario anche una figura di questo tipo per cui pensiamo di aver dato le risposte che la burocrazia si attendeva speriamo che vengano assunti soggetti bravi capaci di dare una svolta dal punto di vista burocratico a questo comune e dopo il settore alimentare che già ha ripreso l'attività da alcune settimane da sabato prossimo torneranno ad operare al mercatino settimanale di Sciacca anche gli altri ambulanti l'accordo è stato raggiunto questa mattina al termine di un altro incontro che si è svolto nella tarda mattinata di oggi appunto tra una delegazione dei mercatisti e l'assessore Fabio Leonte alla presenza del comandante della Polizia Municipale Calia non è stato facile ma alla fine l'intesa è stata raggiunta e da sabato prossimo il mercatino settimanale di San Michele tornerà ad essere operativo dopo i mesi di lockdown legati all'emergenza coronavirus non ci sarà neanche una turnazione tra i mercatisti come proposto inizialmente dall'amministrazione per ovviare alle rigide misure di distanziamento sociale ovviamente tutti dovranno attenersi alle regole e andranno evitati assembramenti in caso contrario ha dichiarato l'assessore Leonte saremo costretti a bloccare il mercato e veniamo al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani a Sciacca dopo la sospensione di oggi ritorna a regolare il ritiro dell'umido già a partire da mercoledì come da ecocalendario mentre è previsto il ritiro della frazione secca domani 2 giugno che dunque viene garantito nonostante trattasi di giorno festivo quindi domani e mercoledì turni rispettati per la raccolta dei rifiuti in città e adesso ci fermiamo per la prima pausa la commissione tributaria ha già accolto i primi 4 di una quarantina di ricorsi contro i ruoli del consorzio di bonifica l'iniziativa di affidarsi ad un tributarista è stata del comitato spontaneo degli agricoltori a rappresentarli l'avvocato Stefano Fontanetto ne parliamo nel servizio i consorzi di bonifica non hanno alcun potere impositivo in ogni caso le pretese di pagamento oltre a dover contenere dati specifiche non possono riferirsi a periodi superiori ai 5 anni previsti dalle norme sulla prescrizione sono le motivazioni contenute in una raffica di ricorse alla commissione tributaria presentate da alcuni produttori agricoli di Sciacca aderenti al comitato spontaneo che si è costituito negli anni scorsi che si sono fatti rappresentare dall'avvocato tributarista Stefano Fontanetta Io ho avuto il piacere di essere contattato da parte del comitato spontaneo di Sciacca guidato da Nino Ciaccio nonché da altri comitati spontanei sempre degli agricoltori sorti un po' nella provincia dell'Egrigento e nel Trapanese che unitamente al movimento dei consumatori mi hanno affidato questo incarico diciamo delicato oneroso ma sicuramente gratificante volto a assicurare una tutela nei confronti appunto degli imprenditori agricoli destinatari di queste richesse di pagamento tutta la fase relativa alla proposizione dei ricorsi è stata preceduta da una importante approfondita analisi delle problematiche sottese condotta anche grazie al supporto dello studio Virgilio di Antonino Di Miro che colgo l'occasione per ringraziare I primi quattro ricorsi sono già stati accolti adesso però sarebbero già una quarantina quelli finiti sulla scrivania dell'avvocato Fontanetta sullo sfondo ruole esattoriali riferite al 2013 notificati però nel 2019 al momento si conosce solo il pronunciamento favorevole nei confronti dei ricorrenti ma è un orientamento a quello della commissione che potrebbe letteralmente stravolgere il corso delle cose dopo almeno 30 anni di dibattito aperto sul ruolo del consorzio sulla gestione imperdita di un organismo dove ha prevalso l'organizzazione commissariale in un ambito nel quale l'applicazione delle tariffe idriche è stata sempre esosa con aumenti inflitti ai produttori addirittura sulle annualità già pagate in assenza di aiuti economici da parte del governo della regione abbiamo evidenziato problematiche che andavano da il termine massimo entro il quale il consorzio di bonifica poteva legittimamente richiedere le pretese consortili trattandosi soprattutto di pretese relative ad anni passati ma anche a problematiche diciamo relativa alla struttura dell'atto quindi di natura intrinseca rispetto all'atto ed ancora problematiche di più ampio respiro attinenti in particolar modo a quei presupposti giuridico normativi che vanno a giustificare e legittimare il potere del consorzio di riscuotere i contributi l'avvocato Fontanetta ha accepito la illegittimità delle cartelle di pagamento richiamando decisioni del governo e altre sentenze che hanno sancito la carenza del potere impositivo da parte dell'ente creditore in questione e in ogni caso a tagliare la testa al toro ci sarebbe anche l'intervenuta prescrizione da considerarsi quinquennale e non decennale visto che siamo di fronte ad un pagamento periodico a cadenza annuale ma non finisce qui nei ricorsi presentati verrebbe contestata anche l'illegittimità della cartella di pagamento per carenza assoluta di motivazione quella imposta dalla norma attraverso l'obbligo di chiarire termine specifiche per i quali si pretenda un pagamento voglio precisare attendo comunque le motivazioni da parte del giudice in quanto le sentenze sono veramente freschissime e quindi al momento ho ricevuto in quanto legale costituito la comunicazione del dispositivo dispositivo che come dicevamo poc'anzi è stato fortunatamente favorevole per i ricorrenti i giudici hanno annullato totalmente le cartelle impugnate è chiaro però che le motivazioni oggetto di motivi di impugnazione e quindi poi le motivazioni della sentenza possono essere anche più ampie possono andare a toccare quelle tematiche che definirei ancora più delicate più determinanti quali appunto il potere del consor senza di riscuotere tramite lo strumento dell'iscrizione al ruolo i contributi consortili è chiaro che siamo sicuramente contenti del risultato ottenuto però bisogna essere molto cauti in quanto si tratta comunque delle sentenze favorevoli relative a un primo gruppo di ricorsi sono pendenti tantissimi altri ricorsi per i quali chiaramente incoraggiati da questo primo risultato positivo ma che è sempre un primo risultato aspettiamo attendiamo fiduciosi l'esito il relativo esito l'accoglimento dei ricorsi contro i ruoli consortili è una bella notizia siamo lieti di aver incaricato un avvocato di sostenere questa nostra battaglia e avevamo ragione così il leader del comitato spontaneo degli agricoltori Nino Ciaccio il quale aggiunge che adesso la battaglia da fare è far tornare il consorzio alla gestione democratica e non più commissariale ascoltiamo Nino Ciaccio raggiunto telefonicamente da Massimo D'Antoni Nino Ciaccio queste decisioni della commissione tributaria potrebbero essere una linea di confine insomma tra il prima e il dopo potrebbe cambiare tutto voi intanto siete contenti del fatto di aver avuto ragione sicuramente sì c'è soddisfazione in quanto il primo gruppo diciamo ha vinto il ricorso sono stati affidati a quattro giudici diversi la cartella e ognuno ha espresso lo stesso patere le cartelle sono state annulate quindi abbiamo una grossa abbiamo avuto una grossa soddisfazione ora bisogna vedere gli altri ricorsi perché queste sono una parte speriamo secondo voi questo potrebbe essere l'inizio diciamo di un cambiamento di rotta da parte del consorzio nei vostri confronti ma io penso di sì perché sicuramente devono cambiare noi continueremo noi continueremo la nostra battaglia ma non per essere contro il consorzio ma ovviamente per raggiungere una decisione concorde insieme al consorzio e all'assessorato e per intanto per annullare tutte le cartelle sattoriali del regresso e poi stabilire un verso eco dell'acqua partecipare alla riforma del consorzio perché so che devono fare le riforme del consorzio e quindi noi diremo la nostra in merito a questo e quindi c'è un percorso ancora da affrontare io chiedo all'agricoltore di essere uniti perché uniti si può vincere Molto positiva la notizia dell'annullamento delle bollette dei canoni rigui dei consorzi di bonifica relativi agli anni precedenti a seguito di ricorso giudiziario ma adesso occorre una manovra regionale che definitivamente ponga fine ad una questione annosa che ha generato solo debiti e costi per gli agricoltori questo è il commento del consigliere comunale Silvio Caracappa per il quale in prospettiva futura occorre una riforma generale dei consorsi di bonifica e ripartire da zero significa anche azzerare tutti i costi relativi agli anni precedenti agli agricoltori vanno date certezze e servizi per le aziende non ulteriori costi e di aggravi di spese conclude Silvio Caracappa e cambiamo argomento le battaglie si fanno dentro questa l'opinione di Rino Marinello senatore pentastellato che oggi dichiara di non aver condiviso la decisione di Matteo Mangiacavallo di lasciare il Movimento 5 Stelle Marinello non intende seguirlo né lo farà a quanto pare il consigliere Teresa Bilello ascoltiamo il servizio io ho una grande stima un rapporto di amicizia con Matteo che resteranno tali però io resto nel Movimento 5 Stelle Per Rino Marinello le battaglie vanno condotte all'interno ecco perché il senatore pentastellato oggi al nostro Rotario Giornale dichiara apertamente di non avere condiviso la decisione di Matteo Mangiacavallo di uscire dal Movimento 5 Stelle e di creare e aderire ad un nuovo gruppo parlamentare a Lars se Matteo dico fermo restando che sono decisione sue cambia e crea un altro gruppo sicuramente viene a creare dei problemi perché o in un modo o in un altro lui tirerà per questa nuova associazione per questo nuovo gruppo e il Movimento 5 Stelle dovrà ricompattarsi dovrà seguire un percorso non dico nuovo ma sicuramente diverso Rino Marinello molto legato col deputato regionale che lo aveva trascinato nella candidatura poi risultata vincente a Palazzo Madama non fa fatica a prendere le distanze dall'ex amico a partire dal mancato sostegno di Matteo Mangiacavallo alla sua idea di trasformare il blocco separato del Giovanni Paolo II in centro di malattie infettive e dopo una settimana che io ho presentato una mia relazione da un punto di vista tecnico non da un punto di vista politico sentire che Matteo Mangiacavallo e un altro deputato regionale ne presentano una diametralmente opposta alla mia ma ci è rimasto male sono rimasto allibito in questa cosa lei ha sentito ha cominciato a sentire più lontano Matteo Mangiacavallo non riuscivo a capire non pensavo che ma non riuscivo a capire per quale motivo si presenta un'istanza senza che mi si dica niente e dopo una settimana che l'avevo presentato io sono rimasto così allibito come dicevo è inevitabile che adesso si guardi al senatore al parlamentare di riferimento del Movimento 5 Stelle che adesso è lei qui sul territorio possiamo dire che assume un po' la leadership qui a livello locale e poi le chiedo a livello di consiglio comunale che lei risulti i consiglieri sono ancora regolarmente due Bilello e Currelli non chiederebbe no 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 guardi il discorso è chiaro io ho già parlato con Teresa Bilello ho già parlato separatamente anche con Alessandro Currelli io mi interfaccerò con loro se poi le altre forze politiche e io e la sente su di sé questa responsabilità adesso sul territorio responsabilità non indifferente anche perché la gente si trova sbandata io ieri pomeriggio ero in piazza Porta Palermo la gente dice ma che cosa sta succedendo già ieri sera durante una diretta Facebook del sito malgrado tutto web Matteo Mangiacavallo aveva detto che la decisione di lasciare il Movimento 5 Stelle riguardava esclusivamente lui no è ovvio che sia Teresa che Rino rimarranno al Movimento 5 Stelle perché non hanno avuto gli stessi problemi che ho io ancora è spiegabilmente chiusi gli uffici postali di Sciacca nei quartieri San Michele e Marina la vicenda al centro nelle settimane scorse di diverse segnalazioni di cittadini che diventa oggi anche un'interrogazione presentata dai consiglieri Carmela Sant'Angelo Cinzia Deliberto e Silvio Caracappa sentiamo di cosa si tratta continuano a rimanere inspiegabilmente chiusi a Sciacca gli uffici postali del quartiere di San Michele di via Fratelli Argento alla Marina a differenza di altri comuni dove ormai da settimane tutti gli uffici di poste italiane hanno ripreso la loro operatività a Sciacca non si comprende come mai continui a funzionare solo la sede centrale di via Alcide De Gasperi la vicenda più volte al centro nei giorni scorsi di segnalazioni da parte dei cittadini diventa oggi oggetto di una interrogazione che i consiglieri comunali Carmela Sant'Angelo Silvio Caracappa e Cinzia Deliberto hanno presentato all'amministrazione ritenendo inopportuna questa perdurante chiusura dei due uffici agenzie che prima della chiusura dovuta al lockdown rendevano un servizio utile e indispensabile non solo per la normale utenza ma soprattutto per i tanti anziani pensionati che risiedono nelle due zone e che continuano ad essere costretti a rivolgersi ai propri parenti o a recarsi nella sede centrale di via Alcide De Gasperi dove spesso di conseguenza si registrano assembramenti e disagi chiedono pertanto di conoscere i consiglieri Sant'Angelo Caracappa e Deliberto quali interventi e provvedimenti siano stati messi in atto per risolvere il problema considerato anche che nei paesi limitrofi agenzie che erano state momentaneamente chiuse adesso sono state riaperte all'amministrazione comunale chiedono inoltre di sapere come intenne procedere se la direzione regionale centrale di poste italiane dovesse essere restia ad accogliere la richiesta di riapertura delle due filiali alla luce dell'importanza che la questione riveste per molti cittadini i tre consiglieri comunali chiedono al sinnaco di mettere in campo tutte le sue forze e capacità nella qualità di primo cittadino al fine di risolvere definitivamente il problema assicurando contestualmente la propria collaborazione e il proprio impegno nell'interesse esclusivo dell'intera comunità la richiesta di riaprire gli uffici postali di Sciacca ancora chiusi e di ripristinare la funzionalità dei postmat è stata inoltrata alla direzione di poste italiane lo scorso 13 maggio e quanto puntualizza oggi il sindaco di Sciacca Francesca Valenti in quella nota trasmessa per conoscenza anche al consigliere Carmela Sant'Angelo il comune ha chiesto il ripristino di tutti gli uffici postali presenti nel territorio comunale in sicurezza e secondo le modalità decise dall'ente al fine di garantire un servizio efficiente ed evitare assembramenti nelle sedi operative abbiamo anche sollecitato conclude il sindaco Valenti un'attenta verifica della funzionalità del postamat dopo che diversi cittadini hanno segnalato disservizi seduta della commissione consigliere bilancio e finanze mercoledì prossimo 3 giugno al comune di Sciacca la presenza dei rappresentanti delle categorie produttive è stata convocata dal presidente Giuseppe Emilioti obiettivo portare sul tavolo di chi amministra un crono programma da seguire al fine di dare delle soluzioni concrete dopo che la chiusura causata dall'emergenza covid-19 ha messo in ginocchio l'economia cittadina per Emilioti in una fase come quella attuale bisogna innanzitutto partire da una rivisitazione del bilancio ed ancora cercare di sfruttare al meglio le misure nazionali e regionali e facilitare tutti quegli interventi capaci di rimettere in moto l'economia il presidente della commissione bilancio annuncia inoltre la volontà di convocare anche le altre commissioni coinvolgendo le professioni le associazioni sportive e quanti in questi giorni hanno pubblicamente dichiarato di essere a disposizione delle istituzioni locali c'è l'esigenza oggi più che mai di ridurre le distanze tra i cittadini e le istituzioni che li rappresentano una lettera è stata inviata al sindaco di sciac dal segretario Raimondo Bruculeri per sollecitare l'elaborazione di progetti in modo tale da sfruttare lo sblocco dei 300 milioni di euro che il governo nazionale ha sbloccato per i comuni del sud assegnando 56 milioni di euro per l'anno dal 2020 al 2023 alla Sicilia per le infrastrutture sulle scuole residenze sanitarie edilizia sociale aree verdi beni culturali e impiantistica sportiva alla provincia di Agrigento sono stati destinati 6,4 milioni di euro e nella ripartizione per comune a Sciacca saranno destinati circa 600 mila euro per Raimondo Bruculeri della Cisle è necessario che il comune di Sciacca con strategie mirate allo sviluppo attivi al più presto tutti quegli interventi necessari alla presentazione di questi progetti utili per il territorio per il segretario appunto della Cisle Sacenze un altro strumento che il comune deve attenzionare è l'intervento previsto dal decreto rilancio delle super ecobonus edilizio al 110% e in questo caso sarebbe necessario che il comune metta in atto tutto ciò che è di propria competenza al fine di favorire l'utilizzo da parte dei privati di questo strumento anche mediante costituzione di un ufficio ad hoc che possa accelerare eventuali procedimenti autorizzativi di propria competenza non siamo contrari all'eventuale istituzione all'ospedale di Ribera del reparto di malattie infettive ma ci opporremo con tutte le nostre forze se questo dovesse comportare il trasferimento della riabilitazione gestita dall'istituto Maugeri così oggi il sindaco Carmelo Pace a proposito della volontà del governo regionale di creare all'interno del fratelli Parlapiano un centro per malattie infettive sentiamo Pace da noi intervistato Siamo rammaricati per aver appreso delle varie ipotesi di nuovi percorsi e istituzione di nuovi reparti dalla stampa quando invece l'assessore Razza aveva assunto l'impegno di coinvolgere e sentire le autorità locali per qualsiasi novità che riguardasse le future scelte sanitarie è così che il sindaco di Ribera Carmelo Pace interviene oggi a proposito del nuovo modello organizzativo sanitario regionale che dovrebbe coinvolgere gli ospedali riuniti di Sciacca e Ribera tra le ipotesi cui si è fatto riferimento c'è come è noto quella di istituire a Ribera il reparto di malattie infettive noi non siamo contrari a questa eventuale decisione ma avverte il primo cittadino di Ribera a condizione che tutto ciò rappresenti una nuova opportunità di rilancio del fratelli Parla Piano se viceversa l'eventuale istituzione dell'infettivologia a Ribera dovesse diventare merce di scambio per trasferire in altre sedi il reparto di riabilitazione gestito dall'istituto Maugeri ci opporremo con tutte le nostre forze puntualizza Carmelo Pace ad oggi non abbiamo nessuna notizia ufficiale con l'assessore Razza nei diversi incontri anche in sede di commissione parlamentare ci eravamo lasciati con un impegno ci si doveva riunire con le istituzioni locali per programmare il futuro dei due ospedali di Sciacca e soprattutto il rilancio dell'ospedale di Ribera quindi rimaniamo in attesa di questo tavolo in cui noi sapremo dire la nostra quando dico noi parlo anche in nome per conto dei sindaci dell'intero comprensorio riberese l'ospedale di Ribera nel corso degli anni ha subito tantissimi tagli forse troppi tagli quindi se questa nuova istituzione questo nuovo reparto dovesse significare un potenziamento dell'offerta sanitaria dell'ospedale di Ribera saremo onorati di poter ospitare anche il reparto di malattie infettive certo ci aspettiamo che assieme a questo reparto possano nascere dei reparti paralleli mi riferisco alla cardiologia alla pneumologia e comunque credo che sia uno condizio sine qua non questo reparto va a sommarsi alla chirurgia già esistente alla medicina già esistente alla riabilitazione che non vogliamo barattare con alcunché e soprattutto va soprattutto a potenziare il pronto soccorso che deve rimanere ed essere potenziato per assicurare una dignitosa area di emergenza per un intero comprensorio il timore di eventualmente perdere la riabilitazione è legato ad una presunta incompatibilità della contestuale sussistenza tra fondazione Maugeri e centro per le malattie infettive noi questo rischio non intendiamo correrlo precisa Carmelo Pace ho sentito ipotesi delle più disparate tra cui quello di una potenziale conflittualità fra il futuro ospedale di malattie infettive e il reparto di riabilitazione non so se è così è chiaro e se così dovesse essere noi non avremmo alcuna remora a dire che non possiamo e non vogliamo rinunciare né al pronto soccorso né alla riabilitazione nell'ospedale di Ribeiro e passiamo agli aggiornamenti quotidiani sull'attuale situazione di contagio da covid-19 in provincia di Agrigento gli attuali positivi riscontrati sono quattro cittadini residenti rispettivamente nei comuni di Campobello di Licata Casteltermine Real Monte Sciacca un soggetto positivo in più rispetto a sabato quello relativo a Campobello di Licata ma attualmente dati i numeri che vengono comunicati dall'ASPO di Agrigento la situazione in provincia continua a rimanere stabile e dunque sotto controllo a Ribeiro arrivano gli agricoltori giardinieri questa mattina grazie ad un accordo tra il sindaco Pace e la Coldiretti di Agrigento è stata ripulita la località balneare di Secca Grande vediamo agricoltori della Coldiretti all'opera questa mattina a Secca Grande dove hanno ripulito quasi due chilometri della zona di mare della città di Ribera si tratta di un intervento che l'associazione di categoria ha realizzato su sollecitazione del sindaco Carmelo Pace dopo che il lockdown ha provocato l'invasione di Erbacce in molte zone in quasi tutte le città l'iniziativa vuole anche dimostrare quanto sia importante mantenere green le città il programma di attività concordato con il sindaco Pace spiega Giuseppe Micichè direttore della federazione di Agrigento di Coldiretti prevede due azioni questa mattina è stato rifatto il look al lungomare mentre venerdì 12 giugno ci sarà un nuovo intervento e verrà impiantata una vera e propria oasi nello spazio all'entrata di Ribera in modo da rendere più gradevole e più curato l'ingresso alla città delle arance la sistemazione delle aree spiega la Coldiretti rappresentano ulteriore attività che spesso gli agricoltori effettuano anche a causa del venir meno negli enti locali della figura delle giardiniere ma adesso è indispensabile ripensare alla tutela del verde insomma bisogna cambiare mentalità e pensare a modelli di sviluppo basati su spazi a disposizione dei cittadini anche per il distanziamento nei condomini nelle scuole negli ospedali bisogna creare degli spazi con alberi e fiori se si vogliono davvero mettere in pratica modelli sociali nuovi dettati dal cambiamento a seguito della pandemia bisogna modificare il concetto del vivere sociale conclude l'organizzazione agricola ha superato l'80% di raccolta differenziata dei rifiuti il comune di Calamonaci che si piazza sul podio a livello regionale per quanto riguarda i dati del 2019 un risultato ottenuto grazie al senso civico della comunità e al lavoro dell'Aro Alto Verdura Gebbia sensibilizzazione a queste tematiche da parte sin dalla scuola come testimonia il successo del plesso spataro di Calamonaci ad un progetto promosso da Corepla vediamo il servizio oltre l'80% di raccolta differenziata sono questi i dati eccezionali conseguiti nel 2019 dal comune di Calamonaci che si è piazzato sul podio a livello regionale confermando un trend positivo che va avanti da diversi anni un risultato importante ottenuto grazie al senso civico e alla collaborazione della comunità al lavoro dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Pino Spinelli e dell'Aro Alto Verdura Gebbia diretto da Pasquale Amato con il contributo dei funzionari Aro Francesco Lume e Gero Infurna la sensibilizzazione a queste tematiche comincia sin dalla scuola come testimonia il successo registrato dagli alunni della scuola secondaria di primo grado del plesso spataro di Calamonaci al concorso nazionale tutta raccolta idea plastica per pulire il futuro promosso da Corepla i protagonisti coordinati dalle docenti Coste Sant'Angelo e dal dirigente scolastico Conti sono gli stessi alunni e tutti gli abitanti del comune consapevoli che non basta riciclare plastica imballaggi e stoviglie decidono così di risolvere il problema una volta per tutte liberando il plesso spataro da questo materiale ne abbiamo parlato con l'assessore all'istruzione del comune di Calamonaci Giulia Vaccaro il comune di Calamonaci è il leader per quanto riguarda la raccolta differenziata si è confermato anche per quanto riguarda i dati del 2019 Sì, sì infatti il comune di Calamonaci è il terzo comune virtuoso di tutta la regione Sicilia ottenendo con l'86,3% di raccolta differenziata in tutto il territorio siciliano Un progetto interessante per quanto riguarda la scuola spataro di che cosa si tratta? Sì, è un progetto innovativo è un progetto che riguarda la raccolta differenziata e il riciclaggio infatti i bambini fanno la mensa durante i giorni settimanali e hanno deciso di riciclare la plastica che utilizzavano appunto per la mensa facendo dei piccoli oggetti che possono essere o di arredamento o di uso comune nella quotidianità è un progetto è un progetto che tra l'altro ha avuto anche un riscontro un premio Sì, sì è un progetto chiamato tutta differenziata ed è un progetto fortemente voluto dalla preside Conti ed è un progetto che ha avuto un riscontro enorme infatti ha vinto un premio a livello regionale ed è un fiore all'occhiello anche per il comune di Calamonaci è il secondo premio che è la scuola secondaria di primo grado che vince infatti recentemente avevano vinto anche un premio per la Shoah per la giornata della memoria e oggi si riconfermano vincitori con il premio per la raccolta differenziata Associazione Orazio Capur Amore per la vita Onulus grazie alla gara di solidarietà a cui ha partecipato l'intero territorio una bambina di 8 anni con frattura del gomito è stata sottoposta presso l'ospedale Giovanni Paolo II ad un delicato intervento che è stato eseguito con il supporto dell'ecografo portatile donato il mese scorso dall'associazione strumento che ha evitato il ricorso all'anestesia totale sulla piccola paziente questa bella notizia commenta Alessandro Capurro presidente della Onulus rappresenta un punto di soddisfazione per i sanitari e per l'associazione che ha donato l'ecografo da qualche giorno dopo l'emergenza legata al coronavirus sono riaperti tutti i musei fino a domenica prossima 7 giugno si potrà accedere gratuitamente nell'ambito del progetto denominato la cultura riparte anche la valle dei templi e il parco archeologico di Selinunte fanno parte dei musei regionali e dunque delle aree a cui sarà possibile accedervi vediamo il servizio la cultura riparte questa è l'iniziativa promossa dalla regione siciliana per rimettere in moto l'attività museale regionale da sabato scorso i musei regionali i parchi archeologici e gli altri siti siciliani della cultura hanno riaperto al pubblico dopo la chiusura forzata dovuta all'emergenza coronavirus fino a domenica 7 giugno i musei e le aree archeologiche dell'isola saranno aperte gratuitamente l'iniziativa del governo musumeci segna il rilancio dell'attività culturale nella regione e vuole spingere gli stessi siciliani a riscoprire i tesori custoditi nelle preziose teche museali regionali per evitare coda gli ingressi sarà obbligatorio prenotarsi online in anticipo cliccando sul sito la cultura riparte e verificando così la disponibilità nel giorno e nella fascia oraria prescelta tenuto conto che gli ingressi saranno contingentati e sottoposti a tutte le misure sanitarie previste dalla legge per chi prenoterà la visita gratuita basterà poi esibire all'ingresso il codice di prenotazione ricevuto i siti della cultura che sarà possibile visitare gratuitamente sono molteplici primi tra tutti la valle dei templi di Grigento e il parco archeologico di Selinunte ma dell'elenco fanno parte tra gli altri anche la villa romana di piazza Armerina il museo pepoli di Trapani le aree archeologiche di Segesta Taormina e Naxos il Duomo di Monreale e di musei di Palermo Salinas Abatellis e parecchi altri gli ingressi saranno consentiti sempre con la prenotazione online per le fasce orarie previste nell'app di prenotazione un'occasione unica dunque per riscoprire la Sicilia e i suoi tesori ripartendo dalla cultura dalla storia e dalla memoria premio internazionale letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa conferenza stampa di presentazione della diciassettesima edizione venerdì 5 giugno alle 11.30 al Palazzo Butera a Palermo all'incontro con la stampa saranno presenti Gioecchino Lanza Tomasi presidente della giuria del premio Franco Valenti sindaco di Santa Margherita Belice e Goris Paracino direttore del premio Alberto Samonà assessore regionale ai beni culturali identità siciliane adesso la rubrica sul libro da leggere ho scelto due tipi generalmente condannati dalla società il matricide e l'arrampicatore sessuale li ho ascoltati per mesi mi stanno simpatici potrebbero essere i miei figli se li ho scelti non è solo perché amo le stranezze la ragione per cui ho raccontato insieme le loro storie è più sotterranea e radicale perché sommandosi i miei due eroi hanno fatto quello che avrei voluto fare io nati alla periferia umana e urbana di due città italiane a pochi anni di distanza percorsi dalla comune fierezza di chi deve guadagnarsi il proprio posto al sole Filippo e Ruggero hanno due storie dall'incipit simile le loro vite però si muovono divergenti nella realtà e nel racconto che ascoltiamo dalla voce lucida e insieme partecipe di Walter City Filippo a vent'anni quando sorvegliato dall'ombra dell'Etna uccide la madre fedifraga è così amata a gesto estremo e vulcanico come il suo sentimento per lei Ruggero ne ha qualcuno in più quando in America col nome d'arte di Carlo Masi inizia la sua carriera di porno attore tornato a Roma incontrerà Giovanni del Drago l'uomo che farà di lui una principessa in bilico fra tragedie e fiaba quelle di Filippo e Ruggero sono vite amorali davanti alle quali sospendere il giudizio ma sono anche la filigrana attraverso cui con una scrittura immersiva City affronta il suo buio più segreto proprio mentre sperava di allontanarsene la natura è innocente due vite quasi vere di Walter City Edito Rizzoli inaspettata la scoperta di una colonia di fratino in una spiaggia di Ribera grazie alla segnalazione di una coppia di escursionisti e all'intervento del presidente del WWF Sicilia area mediterranea Giuseppe Mazzotta è stato salvato un piccolo uccellino della specie protetta un evento raro se si pensa che nei ultimi anni la popolazione del fratino si è dimezzata a causa dell'inquinamento vediamo il servizio inaspettata la scoperta di una colonia di fratino nel territorio di Ribera il fratino è un minuscolo trampoliere che arriva dall'Africa inserito tra le specie da tutelare dalla direttiva europea uccelli ed è l'emblema dello stato di conservazione delle spiagge nidifica infatti solo in zone non inquinate una coppia di escursionisti agrigentini ieri ha trovato un piccolo uccellino apparentemente disperso in una spiaggia di Ribera l'istinto di salvare il pulcino ha spinto i due ragazzi a trattenerlo per cercare aiuto passavano da lì quattro ragazze del posto che hanno chiamato subito il presidente del WWF siciliaria mediterranea Giuseppe Mazzotta residente proprio a Ribera prontamente accorso sul posto e che dopo essersi consultato con alcuni esperti ha convenuto di lasciare il piccolo sul luogo del ritrovamento in seguito Giuseppe Scorsone volontario WWF vicepresidente dell'associazione Misilcassim è stato invitato a raggiungere la zona in cui il fratino è stato prelevato per provare a cercare la mamma dell'uccellino il piccolo fratino una volta liberato si è così messo a saltellare verso un canneto a raggiungere i suoi simili quella raccontata può sembrare una storia banale ma non è così si tratta di un fatto eccezionale se si pensa che in Italia dal 1993 al 2010 la popolazione del fratino è diminuita del 50% ed è un evento raro riscontrarne un esemplare ed a proposito di specie protette i volontari del WWF siciliare mediterranea lo scorso fine settimana hanno perlustrato la costa di Licata per un'operazione di monitoraggio finalizzata alla difesa sia del fratino di cui vi abbiamo appena parlato sia delle tartarughe caretta caretta l'occasione è stata utile anche per verificare lo stato di inquinamento delle coste da plastica e rifiuti da contenimento del covid-19 quali mascherine e guanti che momentaneamente sembrano non destare grande preoccupazione lungo le spiagge del litorale licatese ma i volontari continueranno ad essere vigili per preservare l'ambiente e la natura dalle aggressioni umane si guida qui questa edizione del nostro telegiornale grazie ancora una volta per averci seguito buon pomeriggio